E restiamo proprio a New York per presentare una nuovissima trasmissione di Patrimonio Italiano TV. Si chiama un'italiana a New York e come si evince dal nome la protagonista è proprio un'italiana che vive nella grande menina. Il suo nome è Angela Valentino, nota Mike, che vuoi dirlo tu, che a te piace lo slang? Make-up artist, make-up artist. Ma colleghiamoci con lei e facciamoci presentare il nostro nuovo format. Ciao Mike, ciao Luigi, ciao a tutti. Sono appena uscita, guardate un po', dai Times Square Studios, ovvero, seguitemi un po', ovvero dagli ABC Studio di Good Morning America. Mi chiamo Angela Valentino, so vivo qua da sei anni ormai nella grande mela e faccio la truccatrice, quindi sono una make-up artist. Ero qui agli ABC Studio di Good Morning America perché sono una delle truccatrice ufficiali di Robin Roberts, ovvero la famosissima Ecclewoman americana, che presenta il famosissimo break news americano Good Morning America sulla ABC. Ci sarà una rubrica dove ci vedremo tutte le settimane, dove vi farò vedere quella che è la mia vita qui a New York, ormai da ben sei anni. Ok, una vita molto crazy, ma lo è, sempre di corsa e non ho tempo neanche di respirare. Ma è così, ci piace così, è la grande mela, dobbiamo viverla a 360 gradi e alla velocità della luce. Niente, quindi faremo questa rubrica insieme. Non parleremo solo di make-up, quindi se avrò la possibilità vi porterò sul lavoro con me, quindi vi farò vedere quello che è il mio lavoro, le persone che incontro, modelle, fotografi, quello che è il mio lavoro in generale. Poi vi porterò anche in giro per la grande mela, quindi vi porterò al supermercato, che è una cosa non, voglio dire, usuale, che si va al supermercato a fare la spesa, a vedere che cosa comprano gli americani, cosa mettono nel loro carrello. Vi porterò in giro, ovviamente, come vi ho detto, nella grande mela, vi farò vedere Skyline My Visti, che vi verrà sicuramente voglia di viaggiare per l'anno prossimo. E non solo, intervisterò anche persone che lavorano qui da tanti anni, che sono scrittori, ballerini, artisti, attrici, perché no? Quindi seguitemi, vi mando un grosso bacio. Intanto la mia mascherina vola, c'è un pochettino di vento oggi, è un po' nuvoloso. Sta calando il sole, quindi siamo vicini al tramonto. E io vi lascio adesso con una bellissima vista. E io vi lascio adesso con una bellissima vista. Grazie. Grazie.